L'argomento che abbiamo scelto, che mi sono segnato a Maurizio praticamente, sono le collaborazioni offensive, le collaborazioni in campo. Io credo di avere un'esposizione che dura più o meno un'ora e un quarto, perché voglio lasciare un po' di spazio alle domande. Cercherò di parlare sul tema delle collaborazioni, su quello che secondo me è il vero senso della collaborazione in campo. Non credo che sia particolarmente interessante se ci occupiamo solo di diagrammi o posizioni in campo, pure e semplici. Uno palleggia di qua, tutti venti là, un altro giocatore palleggia di là, tutti venti là. No, secondo me il tema della collaborazione offensiva, così come al contrario il tema della collaborazione difensiva va appunto per la limpeggia, il tema di attacco va proprio a toccare la capacità che noi possiamo avere di stimolare la comprensione del gioco da parte dei giocatori. Questo secondo me è il vero senso. Finché noi arriviamo, che è già un successo, ad avere dei giocatori che fanno qualcosa insieme e si passano la palla è già importante. Però avere chiaro quello che è il vero senso del collaborare in campo uno con l'altro è secondo me avere chiaro come io posso mettere il mio compagno in condizione di spuntare le sue capacità. Uno degli allenatori con cui ho collaborato per tanti anni usa il termine, la terminologia usarsi a vicenda. Ci sono squadre dove voi quando li vedete giocare capite che i giocatori sanno usarsi a vicenda, cioè sanno perfettamente che cosa il compagno è bravo a fare e che cosa il compagno non è capace di fare e che di conseguenza dargli una palla in una certa posizione vuol dire metterlo in condizione di fare qualcosa che lui è effettivamente bravo a fare. Dagli lo stesso una palla in una situazione però diversa vuol dire metterlo in imbarazzo perché lui in quella situazione lì non ha le competenze tecniche per venire da fuori, vuol dire quasi favorire un errore a dargli una palla in quella posizione. Viceversa dargli in un altro momento, in un'altra situazione vuol dire esaltare le sue capacità. I giocatori più esperti di solito hanno questa grande abilità nell'usarsi uno con l'altro ma non sempre. Voi vedete anche tantissime squadre di giocatori esperti e di giocatori maturi che non si sanno usare per niente perché manca questa capacità di parlare un linguaggio più. Così come potete vedere squadre magari inesperte fatte da giovani di belle speranze che stanno migliorando dove quasi non si sa bene perché i giocatori sanno usarsi e quindi collaborano in campo. Per poter parlare di collaborazione in campo secondo me bisogna che condividiamo tutti, io e i miei giocatori, un'idea di come il gioco viene fatto e di qual è lo scopo del gioco. Lo scopo del gioco sicuramente vincere le partite, segnare, divertirsi eccetera eccetera. Questo è il senso più generale. Nel tema svolgimento del gioco, cioè quando noi giochiamo, che cosa vogliamo fare? Per me la risposta è vogliamo tirare con uno libero. Questa è la risposta che io vorrei che i miei giocatori tenano diversi. Non ci arriviamo subito a parlare con questo stesso linguaggio. Perché? Perché spesso ragazzi giovani oppure a livello seniori, giocatori che arrivano da diverse realtà, hanno un'idea di quello che è il gioco di attacco che può essere molto diverso uno da l'altro. Per qualcuno il gioco di attacco può essere ad esempio correre molto e attaccare soprattutto in contropiede. Per qualcun altro può essere un'esecuzione a metà campo. Per qualcun altro può essere molta organizzazione. Ci sono giocatori che si trovano meglio in un sistema abbastanza rigido. Altri giocatori vogliono avere la massima libertà in campo. Il succo del discorso però è che alla fine se noi dobbiamo mettere insieme tutte queste diverse conoscenze, dove dobbiamo andare? Noi possiamo fare tanta filosofia. Secondo me l'idea di dire noi, indipendentemente dal fatto che corriamo o che andiamo piano, perché poi molte volte è una partita che ti permette di correre o di andare piano al di là di quelli che sono i tuoi desideri. Al di là del fatto che giochiamo organizzato oppure un po' più libero. Al di là del fatto che giochiamo con quattro giocatori fuori e uno dentro o tre fuori e due dentro o quel cavolo che volete. Al di là di tutta questa filosofia. Noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo tirare con uno libero, perché tirare con uno libero vuol dire che primo abbiamo capito nel gioco chi è quello libero, perché tutti voi come me abbiamo un sacco di volte la nostra squadra che chissà perché tiriamo quello marcato. Non è che la gente lo fa apposta, però non ci si riesce a trovare quello libero. E siamo tutti che ci impegniamo, che lavoriamo, che leggiamo, che studiamo, che proviamo, però chissà come la mia squadra o la nostra spesso tira uno marcato. Allora sì, ma intanto va bene, ma a lungo andare non è che va tanto bene se tira sempre quello marcato, a meno che non si chiama ginobili. Allora se hai ginobili sei molto più bravo come un allenatore, come diceva il professor Mitter. Se non hai ginobili sei già un po' più scarsa. Vi assicuro che è proprio chiusa parola. Quindi intanto mi ha trovato quello libero. Secondo mi ha saputo di far arrivare la palla al momento giusto, il che sottintende un'idea di muovere questa palla, ma non per il gusto di muovere. Capite? Ma con l'idea di andare poi a trovare se io sono marcato, pum, il compagno libero. E quindi l'idea di mantenere il vantaggio. Questo secondo me è un aspetto importante del gioco d'attacco. Il sugo del gioco d'attacco è che o giocando liberi, o usando i blocchi, o facendo la mezza ruota, quel cavolo che volete, voi cercate che a un certo punto un vostro giocatore sia in vantaggio. chiaro? Certo. Nel senso che, o in libero di tirare, o in una situazione dove ha saltato l'uomo, oppure è in una situazione dove con la palla in mano uno gli sta correndo addosso e quindi lui può fare finita un palleggio e cominciare a chiudere la difesa. Per usare un esempio di un giocatore che gioca qui a Roma quest'anno, Ede è il classico giocatore che prende vantaggio. Quando sta bene fisicamente lui ha tecnica, velocità, capacità di leggere le situazioni per cui lui il vantaggio lo prende. O perché salta l'uomo direttamente, o perché gli ha fatto un piccolo blocco e lui il vantaggio lo prende. Una volta che hai preso il vantaggio, le squadre, diciamo, l'obiettivo che noi abbiamo tecnicamente, tatticamente, è di concretizzare quel vantaggio. Nel senso che se sono libero di tiro, se la difesa fa qualcosa per contrastare il mio essere in vantaggio, io col passaggio successivo devo mantenere questo vantaggio. Torniamo su questo, condividiamo questa idea apparentemente estremamente semplice ma molto difficile da mettere in parte. Poi sapete meglio di me che vanno a passare con un attimo di ritardo, fare un palleggio in più, non farsi trovare nello spazio libero, eccetera, eccetera, il vantaggio lo perdono. Allora perché in questi ultimi anni c'è una grande, vorrei dire quasi sopravfazione della difesa nei confronti dell'attacco? Perché i giocatori sono molto più atleti rispetto a 15 anni fa. E perché il livello tecnico, individuale, medio, è calato. Di conseguenza non basta più un blocco, tu esci, sei libero e tiro. Adesso un blocco, fai un blocco a vittoria uno nell'altra setta. Esci fuori, hai mezzo secondo forse per essere libero. E quello che fai con la palla in quel mezzo secondo ti permette o di tenere il vantaggio o di perderlo e allora vedi che la difesa ti ha messo le mani addosso, ti sta piano piano strangolando e arrivi a un tiro forzato. È tutto un gioco di azione e di reazione. Va bene? Allora, quando impariamo di collaborazione, secondo me è proprio questa l'idea che noi abbiamo come base del lavoro. Una volta che abbiamo trovato il vantaggio, e non è questo l'aspetto più difficile, perché basta poco per prendere vantaggio, cosa facciamo di questo vantaggio? E quindi come diamo spazi e quindi come, che tipo di istruzioni diamo per arrivare, speriamo a tirare con uno libero. Premessa, questa è l'idea generale. Quali sono le tre cose che secondo me noi dobbiamo curare a priori, indipendentemente, ripeto, da quello che vogliamo fare. Uno, quello che in inglese si chiama spacing, in italiano si chiama spaziatura, molto più grossamente, è a distanza. Allora noi diamo il corso branco, noi diamo cinque giocatori. Noi sicuramente, come allenatori, dobbiamo preoccuparci di curare la distanza, ovviamente, che un giocatore può avere rispetto al canestro. Cioè, per assurdo, se noi giudiamo cinque giocatori qui, uno qui, uno lì, uno lì, uno lì, non c'è spazio per molti. Va bene? Quindi la distanza dal canestro. La distanza rispetto al pallone e la distanza rispetto agli altri compagni. Perché se giochiamo troppo vicini, cosa succede? Che permetriamo a un giocatore che difende vicino al giocatore con la palla di fare un aiuto eccessivo. Mi spiego. E vedete che abbiamo in quattro, per favore. Se siete due modianti, meglio un po', due mezzi, due canti, meglio un po'. Grazie. Lui è la palla. Se lui gioca a questa distanza al compagno con la palla, permette automaticamente a questo ragazzo di giocare qui. E quindi il suo momento di giocare è un uomo motorino. Ci siamo in talmente banale che la visione ci mette tutti qua a scampare. Quindi se anche presumo che lui possa battere questa distanza, gli spazi diventano talmente ristretti che non ci muoviamo. Se con la palla tu, lui ci ha iniziato a giocare due metri, due metri e mezzo più lontano, adesso vedi che per lui diventa un po' più difficile coprire contemporaneamente lui e lui. Perché? Perché ha dilatato, abbiamo dilatato lo spazio di recupero. Giusto per capirci. Nel senso che se anche in cui lui va dentro e io forzo un aiuto normale, su questo passaggio lo spazio di recupero è molto più dilatato. Io non ci arrivo mai. Quindi il vantaggio è quando l'abbiamo mantenuto di sicuro. Allora, o ruota qualcun altro, oppure lui ha un tiro, oppure abbiamo una penetrazione. Quindi se giochiamo troppo vicini a quello con la palla, permettiamo all'uomo che difende un giocatore senza palla di difendere molto più facile. Ok? Lo stesso discorso è ancora più chiaro se pensate a due giocatori vicino alla palla. Quindi, l'esempio mi viene più semplice se pensiamo a una zona 2-3. Ok? i due azzurri, anzi i bianchi e i azzurri sono due laterali, i due, scusate, davanti di una zona 2-3. La palla è lì che sta marcando più o meno avversivamente la palla e questo giocatore gioca qui a proteggere questa zona. E supponiamo di avere un playmaker e un forzato. Ora voi capite che se la palla è lì e questi due giocatori, lui mi chiama la palla qui. E lui mi sta tornando. Lui che è la seconda guardia difensiva, probabilmente bravo, con una mano qua davanti e una qua, riesce uno contro due a stare per un paio di secondi. È abbastanza intuitivo questo, no? Ora, se lui sta qui, diventa da più difficile. se solo spostarlo, mi metto in mezzo. Oppure, se lui mi gioca vicino alla palla e lui mi gioca qui sull'altro stivolo, adesso lui, nel momento in cui noi muoviamo la palla da lì a qui, è in mezzo e deve decidere, perché o manca lui o manca lui. Se manca lui, per forza di cose, se la zona sale qui a coprire questo, rimarrà probabilmente libero in esterna e il vantaggio lo manteniamo. Con la palla lì, se loro due giocatori in linea, o comunque troppo vicini per non stare lì a spaccare il capello in quattro, permettono a un giocatore di stare contro due avversari. Questo, ne parlavamo molto tempo fa con Cremonini, quando parliamo di didattica della palla canestro e didattica del mini basket, queste sono situazioni ricreate grandi, non necessariamente da un punto di vista di palla canestro, ma da un punto di vista di occupazione degli spazi, fin dai bambini piccoli. Perché quello che ci si ausa di vedere, di una progressione logica che parte dal mini basket e arriva poi alla palla canestro, è che i ragazzi crescano con una comprensione logica degli spazi e del tempo in cui si parla. Perché è ovvio che un ragazzo di 14 anni non è l'importo di andare da zero a far capire, soprattutto da un punto di vista di visualizzazione e utilizzo, gli spazi. Ti deve prendere quando è bambino, quando fanno i giocchini che si rotolano, che cuorrono, che fanno, eccetera. Lo spazio è la prima risorsa che noi abbiamo a disposizione per parlare di collaborazione. Se io tolgo spazio, torniamo un luogo contro mozzo, uno con la palla lì e uno senza palla qua, se ci togliamo lo spazio a vicenda, siamo già a zero come collaborazione. In giuglie che pensiamo alla collaborazione con la palla. Seconda cosa, secondo concetto quindi che vogliamo aggiungere, è quello che si chiama il timing in inglese, cioè il tempo. In che senso? Nel nostro gioco, che è un gioco di azione e reazione, credo che il modo più importante è capire che se mentre faccio una cosa, mentre sto completando una cosa, inizio a farla un'altra, noi abbiamo più possibilità di mantenere il vantaggio. Mi spiego. Se la palla è lì? No, no, sono serio. Mi difende rispetto a questa palla, mi difende rispetto a questa palla. Se su questo palleggio fa un piccolo aiuto e passa la palla, e adesso lui, nel momento in cui la palla gli sta arrivando in mano, cerca di avere già chiaro se deve tirare, buttarsi dentro, oppure passarla, è diverso che non se su questo palleggio e la chiusura, lui prende la palla, se la mette sopra la testa così e comincia a guardare come deve fare. Allora, tutti voi, tutti voi, indipendentemente da che tipo di partita guardiamo, bambini piccoli o Eurolega, capite subito se una squadra sta giocando a scatti, cioè fa una cosa, poi quando non è venuta prova a farne un'altra, e quando non è venuta neanche questo prova a farne un'altra, oppure se vedete che ha fluidità di gioco, capito? Non so se riesco a spiegare, se dico delle cose che provano a confusione, mi fermate e ci proviamo a ritornare solo, perché magari certe volte mi incanto io. Per cui, quando voi vedete una squadra che fa le cose in attacco, senza soluzione di continuità, va bene? Quindi non c'è questo scatto, come se fosse un filmato che il fotogramma si ferma, allora voi vedete che il timing è rispettato. Timing, nel banale, vuol dire questo, che lui si smarca, smarca il cuore, ecco, e mentre prende la palla, contemporaneamente si mette in condizione di fare un tiro, una partenza o un passaggio. Se invece lui, quando si smarca, prende la palla a lui, poi si mette così e comincia a guardare, e poi forse inizia a passare la palla, vedrete, tra 5 minuti facciamo un esercizio per migliorare questo tipo di cose, che il numero di errori sale esponenzialmente. Vi anticipo un esempio, dai qui con la palla. Andiamo a rallentatore, la palla è lì, va bene? Un buon giocatore, sono in posizione corretta difensiva. Mentre la palla vuole al mio compagno che si smarca, questo giocatore salva dentro a prendere la palla, va bene? E io cosa farò di questo? Cercherò di non fargli prendere la posizione passando davanti, perché sto dietro il problema non si pone, va bene? Nel momento in cui faccio questo, lui è, per un paio di secondi, forse meno, libero, bravo sulla riga di fondo. Ora voi capite da soli che palla la palla, si smarca e prende la palla. Se lui riesce a prendere la palla e a fare subito questo, lui è dato un passaggio e ve lo fa segnato. Se lui prende la palla e si mette o perché c'ha pressione addosso, o perché non è tanto bravo a usare il piede perno, esempio, perché ad esempio si smarca, prende la palla e con lui attacciato, anche che fare subito questo è l'uso, quindi crearsi spazio, un po' di persone che ho pressa, e finché palla, uno, il tre, fa questo, prende la palla e fa questo, ok? Già questo ti ha rotto tutto. C'è un cattivo uso del piede perno, ti ha rotto tutto, ti ha rotto, altro che stiamo sotteggiando il taglio, perché la prende qui, mi fai, mi fai, mi fai, mi fai questo errore che fa tutto. Vai, sotto pressione, fa così, e io completamente faccio così, e è già finito. Allora voi, in tv, o nel vivo, vedete questo ragazzo che siccome l'allenatore gli ha detto di cercare il giro e vuole farlo, comincia a fare così. E lì la difesa ti salta d'osso, ma non necessariamente una difesa di alto livello, ma qualsiasi tipo, perché gli ha rubato l'iniziativa. Non è tanto il problema di essere più o meno bravi in difesa o più o meno bravi, lo problema è che loro, io e lui, in attacco, abbiamo perso l'alto, ripetete, il timing, abbiamo cominciato a fare le cose, e una dopo la. Terza cosa che vogliamo curare è la visione periferica, perché non possiamo parlare di collaborazioni in attacco se non cominciamo a capire come possiamo vedere più giocatori contemporaneamente in campo, e soprattutto come possiamo vedere una maggiore porzione del campo. E adesso proviamo a fare un piccolo ragionamento. lì la palla. Lì ci mettiamo un altro due giocatori in pivot, per favore. Uno blu, 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 uno blu. Allora, la situazione è molto banale. La palla è lì, il messore in posizione corretta, mentre la palla vuole in mezzo, l'attaccante, cerca di abbassare la sua posizione, il terra palla scuola. Con la palla lì cerca di portarla sotto canestro, in modo da quando la palla va lì, gli si gira davanti e cerca di giocare in questa posizione. Va bene? Un movimento molto comune, molto banale. Ok? Cioè approfitto della corretta posizione difensiva per anticipare il movimento della palla e farmi trovare davanti a lui, in modo da giocare in alto basso. Questo può essere una guardia, può essere un piede. Va bene? Allora, io ho un obiettivo, oltre al ricevere il pallone, di ricevere il pallone, cercare di sapere se posso tirare, batte nel mio uomo se lui mi è ginocchia contro ginocchia, oppure cercare il compagno. Vediamo a farlo uno. Tira a palla viva e cominciamo a giocare. Vieni, bene, forza, forza. E uno. La difesa ti mangia i testicoli, come si può dire. Ok? Vediamo, forza, forza. E il tuo concetto di mangiare i testicoli è quello. La condizione è un piacere, però se ti saldo davanti così, te li mangio io. Vediamo, forza, su, gioca, gioca. Un, due, tre. Abbiamo avuto un passaggio completato, una palla persa, uno non completato. Stiamo giocando la partita, ragazzi. Partita, stiamo giocando, stiamo giocando. Tre e uno. Non ci siamo messi da tono. Qui siete? Non è passato il passaggio. Bene, andiamo, forza. Forza, andiamo. Ok. Molto. Molto. Poi noi ci chiediamo, perché quando questa nuova palla fa tutto, o uno di questi grandi giocatori che vediamo, nel momento in cui lui prende la palla, o, 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 così. Stiamo con l'altro. Ecco. Se si smarca, va per un tiro, la palla esatta. Lui arriva con un secondo, questo, prende la palla, o, o, e gli arriva la palla su. Dice perché? Il problema è riuscire a guardare lui e lui contemporaneamente. Allora, provate a pensare. La nostra visione periferica probabilmente arriva a circa 45 gradi a destra e circa 45 gradi a sinistra. È vero? Tutti quanti noi. Poi c'è, no? Forse qualcuno di più. Bill Brightley dicono che riusciva a vedere fin qua e si allenava negli anni sessanta quando veniva a Milano guardando le vetrine, quando camminava così, sforzava proprio la sua visione periferica. Ok? Però diciamo, persone normali, io da qui ho una visione periferica che se fisso lì davanti, ok? Riesco a vedere più o meno cosa succede lì nell'angolo, cioè riesco a vedere più o meno quel sacchetto azzurro e più o meno quella persona con la tuta blu e gialla che sta scrivendo. Ovviamente non metto a fuoco, però capisco che si sta muovendo, si sta venendo, quindi non vedo il dettaglio, ma vedo la figura. Ok? Ora, voi capite che per quelle che sono le posizioni in campo, se noi continuiamo a guardare chi ci passa la palla e a chi dobbiamo passare la palla, noi buttiamo nel cesso gran parte della nostra visione periferica. Questa è una cosa su cui io insisto molto e provo a spiegare. Se io sono in centro di lui e quindi il mio problema, il mio obiettivo è fare un canestro o fare un passato, il mio obiettivo è nel momento in cui io prendo la palla per vedere se devo giocare lui, se devo tirare o se posso passare. Se io mi muovo senza la palla, guardando lui, la mia visione periferica in questo momento arriva lì, forse, e lì. Cioè prendo gran parte del tavolo degli ufficiali di campo e un pezzetto della panchina avversaria o della mia panchina. Ok? Se io mi muovo senza la palla, il mio è come quando ci insegnano sul lato debole a giocare palla e uomo, no? Non ci insegnano a fissare davanti in modo che con la coda dell'occhio vediamo uomo e palla. È vero o no? Eh? Tutti noi, in corso allenatori, da trapuzzi con me trent'anni fa, ti dice, vado, fissi davanti e vedi destra e sinistra. Si sa cosa in attacco? Perché non possiamo fare queste cose in attacco? Perché con la palla lì, mentre io mi sbato, non posso mettere il mio fuoco lì in modo che contemporaneamente la mia coda dell'occhio è lì e la mia coda dell'occhio è qui. E posso vedere di più e un po' prima ciò che si fa. Capite? È una piccola cosa, però può aiutare molto nel giocatore. Più piccolo è e più il giocatore gioca così. Eh? Più comincia a capire e più lui mentre si muove, gioca così. Tra parentesi, comincia a mettere le anche e le punte dei piedi verso il canestro. Quindi difficilmente vedete un giocatore bravo che gioca così. Tutti si muovono così. Per cui prendono contatto, saltano fuori e sono già così. Eh? Non prendono contatto, saltano fuori e sono così. Che adesso devono fare così o devono fare così. E quindi... I giocatori di pallacanestro, io uso questo esempio, è come uno sciatore. Lo sciatore ha sempre le punte dello sci nella direzione dove deve andare. Non è mai quella... se vuole andare di là. Non è mai quella punta dello sci. Perché se no non si muove. Stessa cosa è il nostro giocatore. Se da un giocatore comincia a muoversi così, si smarca. Inizia con la coda dell'occhio a guardare lui. Vai! Adesso sai che la palla arriva qua? Boom! E può fare quelli che si chiamano i passaggi di tocco. No? Gli americani chiamano touch pass. Vuol dire prendo, boom! E passo. Ricevo. Associato lo metto da parte. Allora, dobbiamo fare un piccolo esercizio. Mi avete fatto una fila qua di tre. Una fila qua di tre. Con il pallone. Andiamo qua il pallone in più. Una fila in ala. No no, con i due per sotto. Facciamo vedere l'esercizio. Anzi, spostiamo di là così viene bene l'esercizio. Abbiamo bisogno. Guarda ragazzi. In tre con la palla qui. In tre con la palla qui. In tre con la palla qui. C'è l'altro pallone? Grazie. Gli altri qui in ala. Gli altri qui in ala. No, in mezzo. Guarda, in mezzo. Ho bisogno di altri due. Andiamo! Grazie. Il primo difende passivo. Capito? Ok? Il secondo in coda. E così via. Rotazione è attacco, difesa. Lì. Lì. Qui. Chiara? Voi due. Uno all'altro. Io faccio difesa passiva. Ok? Senza tirare la mia unità. Io ti gioco. O dietro. Va bene? O ti gioco di qua così. O ti gioco di qua così. Tu di conseguenza fai questo. O questo. O questo. Lui ti deve mettere la palla rossa. Su. L'obiettivo è. Smarco. Lo escevo. Leggo la difesa. E nel momento in cui prendo la palla. Soldato dove lo metto. Capito? Quindi. Fissa se ce la fai. Comunque. Metti l'attenzione qui. Così con la tua dell'occhio vedi me. E vedi il compagno ti passa la palla. No no. Faccio io. Fai. Prendi. Vai a tirare. Prendiamo. Prendiamo. Via. Pronto? Via. Senza guardare. Pronto lato. Via. Antanto. Media. Spori. Andiamo. Andiamo. Troppo tempo. Troppo tempo. Andiamo. Troppo tempo. Troppo tempo. Bravo. Guardate. 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 Troppo tempo. E passa lontano da me. Passa lontano da me. Eccolo tu. Bravo. Ok. Via. Dov'è? Ora. Adesso cominciai a pressare. Adesso invece cominciai a pressare. Pronti? Via. Ah 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 ah. Sma calza. Ehi. Ehi. Io in realtà sono grande e grosso come lui. Quindi se vedi che io sono qua. E gli passi la palla qua. Io di solito. Se sono come lui. Sono grande così. Capito? Se mi vedi qua. Degli a palla. Se mi vedi qua. Se gliela metti qui. Degli a palla. Io faccio così. E adesso lui si deve lavorare. Uno contro uno. Capito? Se invece. Gli riesci a mettere lì. Sono due punti su. Perché io non ho il pezzo che mi lascio lì. C'è una differenza enorme. Torniamo a quello che dicevamo prima. Sapersi usare. Eh? Non so se hai sempre stato chiaro. Quello che cercavo di spiegare al ragazzo. Se io Marco mi dà. E lui gli dà la palla qui al bersaglio grosso. Mi dà sicuro la possibilità. Mentre la palla vuoi. Di fare un passo qui. E adesso lui deve giocare su uno contro uno. Quasi da fermo. Se con me qui. Lui dà la palla. Veramente lontano dalla difesa. Io per quanto mi muovo. Se lui usa bene la tecnica. Fa così. Con questa grande bravo. Mi bello fuori. La mano verso la palla. Perché la palla. Se non la prendi. E la gamba supera. Ok? Eh? La prende. E sono due punti. Mi ha messo. Cioè. Lo ha messo in condizione. Di non dover usare. Un altro movimento. Per concretizzare. Ok? Sapersi usare. Allora andiamo. Forza. Su. 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 Aperta parentesi. Voi forse non ci credete. Noi tuttora. A Treviso. La squadra che abbiamo quest'anno. La mattina. Occupiamo almeno una o due volte. A settimana. Subito con i più giovani. A fare queste cose qua. L'allenatore. Ha una funzione fondamentale. Che è quella di lavorare con la difesa passiva. Perché l'allenatore. A differenza del compagno. A me cosa costava. Da allenatore. A dire a lui. A Nicola. A Nicola. Nicola. Fai tu cinque volte la difesa passiva. Scegli destra e sinistra. Va bene? Mi costa da niente. Però. La differenza qual è? Adesso. Non qui. Scusami. Che non conosco i ragazzi. Ma noi. Io so. Chi di quelli lì. Guarda sempre in un punto. E non la passa da in un'altra parte. E quindi gli posso forzare gli errori. So quello che fa le cose a memoria. Per cui. Se gli ho appena finito di spiegare una cosa. Basta che mi metto da l'altra parte. E lui mi passa la parola in bocca. Per cui. E' una. Diciamo. Continua. Provocazione. Sul piano dell'attenzione. Perché la differenza. Io ho sempre pensato. Non è. Non è. Diciamo. Come si può dire. La. La voglia o non voglia. Di fare le cose. O la nostra capacità. Di insegnare o non insegnare. La differenza fa. A che livello. I ragazzi sono in grado di stare. Diciamo di. Sì.